Sul Bohemians, 1-2 dell'Atletico di Madrid contro la Dinamo di Dresda, un risultato piuttosto grave per la squadra madrilena. 0-0 nel primo tempo, poi al primo minuto del secondo tempo Ruben Cano porta in vantaggio l'Atletico Madrid, ma il commento del Lega Spagnolo dice che l'allegria dura pochissimo, perché infatti dopo questo gol di testa di Ruben Cano su cross di Marcos, ecco che arriva il pareggio di Hartnett e a un minuto dalla fine il raddoppio di Weber, meritato successo della Dinamo di Dresda sull'Atletico Madrid.